Siamo all'appuntamento alle 11 e mezzo, ma dopo in libertà, siccome tanto in San Francesco vediamo un altro progettivo che è del maestro di San Francesco e che assomiglia molto a questo qui, io magari ve lo spiego così poi dopo quando venite lo potete vedere in libertà. Grazie. 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 Mi aveva detto che l'Arno fa una curva per non arrivare per non arrivare en La gardens perché infatti l'Arno nasce sul Monte Falterona, in Casentino, scende su tutto tutto dritto, dritto fino a Ponta Puriano e poi fa una curva e poi va a Firenze, ecco, questo per dire delle barzellette, no? Allora, qui siamo nella... Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!